Capitolo 9 Oh, adesso ho paura Non erano qui per caso Non erano in ricognizione Né in pattuglia Questa nave è pronta al combattimento Da allora era una missione di stia Che è distruzione Ne hai sentito? Isaac, l'ho perso di nuovo Nessuna traccia del rig di Hammond Trova il nucleo energetico E battene subito da lì L'hanno censurato? Che è successo? Ehm, ok Ah, sta roba qua per terra E quella che c'è spiaccica sul soffitto Chi è? Mamma mia Ma che veloce Questo è da spingere? Oh, c'è un estintore qui Rendiamolo utile L'infezione sta avendo un effetto strano Su questi soldati Hanno tutte le unità di stasi Nelle loro corazze L'infezione sta affondendo Questi moduli Nelle loro carte O qualcosa del genere Ora sono più veloci Molto più veloci Stai attento Oh, munizioni Ah, questi qui trasparenti Non li possiamo spostare Questi sì Le estinture, dov'è? Eccolo Adesso che abbiamo fatto bene Madonna, quanto è veloce Fermalo Ah, ho finito la stasi Morto? Merda Devo riprendere la stasi No Quanto è veloce Ma che cazzo? No, 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 no Non ci siamo capiti Non ci siamo capiti Son morto Ancora? Mio Dio Cioè abbiamo finito i kit medici No, ce n'è rimasto uno piccolo Che dobbiamo usare subito Prendiamo pure subito La stasi Che se l'avessimo avuta Tutto sto Casino Non ce ne sarebbe stato Ma sentivo camminare Vorrei questo Che spostandosi Fa rumore Oh Ce l'ho dietro Sì, ce l'ho dietro No, no, no C'è, c'è l'uscita Fermati Stai buono Ah, già sei morto Così? Easy Ok Allora, dobbiamo andare là Quindi dobbiamo prendere questo E portarlo qui Yes Per azionare il solito montacari Clark Ho bisogno di parlarti Il torpiatore Mi chiamo Terrence Kine Dottor Kine Ascoltami Non c'è molto tempo Se sei davvero in grado Di riparare la maritta Potremmo usarla Per qualcosa di più importante Della fuga Devi capire che le forze All'opera qui sono Più grandi Di quanto si possa pensare Se te ne vai adesso Condannerai l'umanità Il pianeta Non si fermerà mai Se non restituiremo Il marchio Non capisci La chiesa si sbaglia È una trappola Io ho visto Ti prego Devi aiutarmi No ma sto doppiatore Ma dove l'hanno preso Ma chi è? Cioè È impossibile Prenderlo sul sedio Qualunque cosa dica A me fa ride Ma per forza Guarda Le gambe d'acciaio Lo c'hai? Che cazzata Ho usato la stasi Sull'unico morto Oh bello Facciamolo esplode Questo Ecco Dovremmo aver risolto La situazione No 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 Merda Merda Preso? Ma quanti so? Oh Abbiamo finito Questi Sti ragnetti Del Kaiser Maledetti Dove energetico Ok abbiamo subito La macchina qui Qui occhio che Ci schiaccia Sul soffitto No No Ok Poligono What? No vabbè Non vorrei rischiare De consumare munizioni Magari Non mi fa usare Le mie Però Non me la rischio È un poligono C'è un poligono Oh madonna Ma è incazzatissimo Questo Aspetta Aspetta Che arriva l'amico tuo Ecco Ti sistema lui Fermati Che c'ho uno alle spalle Così lo facciamo Vieni Vieni Ah sempre esplosivo Pure lui Un altro Fermate pure tu Non è detto che Che tu stia da solo C'è qualcun altro? No Sei l'ultimo Allora Ciao Guarda che zompo No 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 Non è per il momento sbagliato Cazzo No questi sono troppo veloci Raga ma come cazzo si fa? No no Vabbè Dai dai È assurdo Bam Eh vabbè Sì Non mi danno tregua Però Neanche il tempo De Sono morto Sono morto Me sta a muzzicare la capoccia Sono morto Sì Sono morto Questo è ancora vivo Aspetta Aspetta Alla per terra Cazzo Eh no Eh no Ma All'improvviso Cristo santo Non mi dice che sta arrivando alto Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Cazzo Ma quanti so Ma quanti so Però Merda Ma quanto è veloce Questo La stasi Ho finito la stasi Ho finito pure la vita Sono morti? Le sono ammazzate da soli? Per taccarmi? Ma pensa che balordi Madonna che situazione Comunque Che ansia Raccattiamo tutto quello che riusciamo Tutto quello che hanno troppato Se hanno troppato qualcosa Lancia fiamme Lancia fiamme ce ne abbiamo Ancora In quantità industriale Ci conviene cominciare a usare Perché se no Ci riempiamo l'inventaglio Soltanto di lancia fiamme Che c'è sta qua dietro? Ma perché trema tutto? Cos'è questo posto? Abbiamo spingito avanti sti cosi Mi sa che Si alternano No No Cazzo Sono morto Molto bene Nucleo energetico Ecco fatto Ecco fatto Non poteva accadere prima Questa cosa? Ah ma non stanno arrivando Non stanno arrivando gli alieni Ok Beh immagino si passi da qua no? Ok Solo lancia fiamme Mi da come sempre Ah ma sta esplodendo tutto così In maniera violentissima Aspetta Fammi prendere Il chiamatico piccolo Così prendo ste munizioni qua Ok Sta esplodendo tutto Mi pare che non c'è sta qualcuno Adesso Qualc'alieno spaventato Ehmond questo Addio Addio 100-100 Che spacca il vetro Infatti la direzione Mi dice di andare là Eccolo Ma lo devo ammazzare per forza Come ne posso andare? No Lo devo ammazzare per forza Ma pure con la stasi Corre Ma che cazzo è? Lo chiamavano bolt Lo chiamavano Senti Toglio da fuoco un pochetto Posso? Stai 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 Stia comodo Stia comodo Eh però Madonna Madonna Cioè mi ha caricato Con tutta la stasi Che situazione Ogni volta Hit medico Pack stasi Subito Vieni vieni Venga venga Stavolta Stavolta non mi faccio un culo Però No Dai Dai non me lo posso rompere io il vetro Che cazzata Morto Morto Mazza Il semiconduttore in diamante Mi ha dato Quanto vale Cinquanta Mila Mila Crediti Beh me li sono meritati però Sto coso gigante E comunque niente Ammond Ci ha salutato Ci stanno ancora i pezzi suoi Che vagano qui per la stanza Senti andiamo Ce ne va Oh È tutta un'esplosione però Qui Una muova Eh dai Eh dai Ma pensa se morivo così Via 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 Mi lascio Andare via Sì Ah è vero siamo tornati qui Non dobbiamo fare niente speciale No dobbiamo andare direttamente Laggiù Vediamo esplode tutto Ok Chi è? Oh Stavolta T'ho fermato in tempo Morto Sì Negozio Sì Negozio ci piace E siamo messi Abbastanza decentemente adesso Oh E anche il nono capitolo Ce lo siamo portati a casa Vediamo un po' qui Non ricordo se abbiamo un nodo energetico Mi sa di no Infatti Sì 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 Beh ormai i jumpscareini qui Sono all'ordine del giorno All'ordine del capitolo Ok Abbiamo perso Emmond Però c'è ancora una possibilità di Di scappare Grazie a questo Nucleo energetico Che abbiamo Faticamente E faticosamente Trovato Grazie a tutti